Ciao a tutti, oggi parleremo di un passaggio essenziale per chi lavora nel disegno digitale L'esportazione Che tu stia utilizzando Clip Studio Paint, Photoshop, Procreate o altri software per poter esportare la vostra arte che voi realizzate I formati di esportazione sono molto simili In questo video vedremo i principali formati per esportare i tuoi lavori al meglio Per qualsiasi risulta che voi vorrete farne E ora iniziamo Ed eccoci all'interno del nostro programma di disegno con il disegno che noi vogliamo esportare E ora vediamo un po' i formati principali e vediamo quando usare ognuno di essi Andiamo in File, Export E qui vediamo vari formati BMP, JPEG, PNG, TIFF, PSD E qui vediamo un attimo Cosa sono questi formati Qual è meglio utilizzare dove E vi spiego un attimo un po' le funzioni Vediamo il primo Quelle più utilizzate sono JPEG, PNG, TIFF e PSD Vedremo questi in questo video Allora, andiamo a vedere il JPEG È perfetto per i web e social media Il motivo è molto semplice Perché è un file molto leggero E quindi è più leggero da caricare Ma non si ha molte problematiche Per quanto riguarda la compressione Per via del peso Ma attenzione Comprimi l'immagine Quindi potete perdere un po' di qualità Quindi vi mostro subito Quando andate a scegliere JPEG E andate ad andare a cliccare Salve Ed ecco una volta che noi abbiamo aperto la nostra esportazione Come potete vedere abbiamo qui JPEG SETTING QUALITY Ovviamente su altri programmi Il nome è un po' più diverso Ma la funzione è sempre lo stesso Scegliere che compressione Impostare nella nostra immagine JPEG Questo ovviamente Come ho detto prima La compressione va a perdere un po' di qualità Sull'immagine Quindi un valore tra l'80 e il 90% È l'ideale Ad esempio in altri programmi Vi dice semplicemente Qualità bassa, media, alta, massima Cercate di stare tra il medio e l'arto Dipendendo ovviamente dal vostro utilizzo Quindi mi raccomando Questo formato è consigliato per immagini Che non richiedono troppi dettagli Come foto o illustrazioni da convintere online Sui vari social Quindi vi permette di carriere l'immagine E non essere troppo compresso E ora andiamo a vedere il prossimo PNG Come vedete qui l'impostazione PNG Il PNG è ideale per mantenere la qualità dell'immagine Soprattutto quando hai bisogno di uno sfondo trasparente Per esempio per loghi o icone A differenza del JPEG Il PNG non comprime i dettagli Come potete vedere nel PNG Non ci sta l'opzione quality Quindi non c'è la possibilità di poter comprimere la nostra immagine Quindi a differenza del JPEG Il PNG non comprime i dettagli Questo formato è utile Sia quando noi dobbiamo andare a esportare immagini senza sfondo Ma anche quando noi vogliamo andare a esportare le nostre illustrazioni Con colori vivaci e nitidi Quindi anche con lo sfondo Passiamo ora al prossimo formato Il prossimo formato è il TIF Il TIF è un formato da scegliere se stai preparando il tuo disegno per la strampa Non comprime la qualità e conserve i dettagli di meglio di qualsiasi altro formato È molto pesante E mai perfetto per lavori di alta qualità destinati però all'utilizzo della stampa Come ad esempio il PDF Invece per quanto riguarda PSD Non è altro che un formato sorgente che utilizza Photoshop Come ad esempio Clip Studio Paint utilizza i file clip Quindi questo è semplicemente un formato I formati PSD, AI, Clip e altri formati che vengono generati proprio dai programmi Servono semplicemente da poter condividere o con amici che hanno lo stesso programma O semplicemente durante un vostro lavoro che state effettuando Oppure da portare a chi dovrà stampare la vostra opera d'arte Gli portate direttamente il file così loro possono fare una stampa diretta dal vostro progetto E questo è tutto Ora sai come poter scegliere i formati più adeguati allo tuo utilizzo Come un vero e proprio professionista Qualunque sia il software che tu utilizzi Spero di questi consigli ti siano stati utili Se sì, lascia un commento, un like e iscriviti al canale Per non perdere altri contenuti come questo sul mondo di Animondix Un saluto a tutti e buon disegno